Dalla deposizione delle corone d'alloro alla Cappella di Sant'Ubaldo e al Sacrario di Piazzale Collenuccio, al momento del ricordo al Monumento della Resistenza. Dopo due anni di cerimonie ristrette causa Covid, il 77esimo anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo amplia la partecipazione alle commemorazioni di pesaresi al fianco di associazioni combattentistiche d'arma, ampi rappresentanti degli studenti e istituzioni cittadine. Autorità rappresentate a cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il cui intervento ha attualizzato il pensiero di liberazione e resistenza ai due mesi di conflitto bellico in Ucraina. È molto importante perché noi abbiamo vissuto questi 25 aprile come se la libertà e la democrazia fossero beni acquisiti per sempre. Invece questa guerra nel cuore dell'Europa ci dimostra che i valori della resistenza sono i valori di coloro che respingono l'invasore, di coloro che credono nella democrazia e nella sovranità dei popoli ed è quello che sta vivendo il popolo ucraino. Quindi è un modo per riaggiornare i valori della resistenza, al tempo stesso per decidere senza sé e senza mai da che parte stare, dalla parte dell'Ucraina e dalla parte della pace. Una pace che adesso va raggiunta con responsabilità, con pragmatismo perché la pace va fatta in due. Putin non ha vinto la guerra come pensava, adesso non dobbiamo illuderci che la grande resistenza ucraina possa portare addirittura alla vittoria dell'Ucraina. Non è realisticamente possibile, occorre un accordo di pace partendo dal fatto che grazie alla resistenza ucraina si può finalmente ragionare di pace. Ce l'auguriamo tutti da questo 25 aprile e questo il grido che arriva, quello non soltanto di chi dice viva la resistenza ma di chi dice anche viva la pace e l'Europa lavora in particolar modo per questo. A prendere la parola al monumento alla resistenza anche Lampi attraverso il suo portavoce pesarese Francesco Delbianco all'indomani delle polemiche sull'associazione preseduta a livello nazionale da Gianfranco Pagliarulo al centro di dibattiti fra punti di vista diversi circa invio delle armi e riflessioni fra aggressori aggrediti nella guerra ucraina-russa. Si parla molto delle polemiche, personalmente io preferisco un'altra questione, è dibattito. Lampi è nata così, cioè come la resistenza italiana, tanta gente che viene da tante tradizioni diverse e finisce in un posto a parlare e a riflettere di temi di qualsiasi tipo. Un tema come la guerra in Ucraina da adesso è allucinante, divisivo anche, ma la cosa importante come ho anche detto oggi nel discorso è parlarne. Nessuna la verità è in tasca e tutti noi siamo qui esclusivamente per trovare vie, strade. Io penso che sia stata molto cavalcata questa cosa della lotta interna, non è una lotta, è il giusto senso del litigio. Il 25 aprile non è la festa in cui tutti quanti andiamo d'accordo, è la festa in cui litighiamo di gusto perché sappiamo che abbiamo tutti posizioni diverse e ognuno ha un pezzo della verità e quello che sta succedendo nell'ampio penso che sia effettivamente questo.